Il mare è come la vita, tutto può mutare all'improvviso. Se vuoi avere a che fare con lui, non puoi temere il cambiamento. Sono nato sulla terra ferma e cresciuto in mare, sulla barca di mio padre. La scelta più ovvia sarebbe stata di diventare pescatore, come lui e come mio fratello. Così sono diventato un consulente finanziario, un uomo, in un mare di numeri. Da adulto mi sono trovato di nuovo davanti a quel bivio. Seguire una strada già tracciata o svoltare. Ho svoltato, ho comprato una barca di 15 metri, il mio pescareccio, il mio ristorante, la mia scommessa. D'altronde non faccio mai quello che gli altri si aspettano. Non mi piego di fronte ai giudizi, ma solo davanti al vento e alla forza della natura. Oggi sono un consulente e un pescatore. Il mare è la mia strada, le onde sono le mie curve. Questo è ciò che ho scelto di essere. E' la mia strada. Grazie a tutti.